Ci saranno novità a SAS Forum Milan? Quest'anno ci saranno tantissime novità, a cominciare dalla data. Quest'anno il SAS Forum sarà il 4 di giugno, praticamente alle porte dell'estate. E poi il formato, un formato coinvolgente, interattivo, nuovo, proprio come lo slogan, Shape the New. Si parlerà di open source, tema molto caldo, così come di artificial intelligence e di machine learning, in un modo molto concreto, proprio come piace a noi di SAS. E poi si parlerà di risk, di digital transformation e anche di come stupire il cliente, praticamente tutto ciò che afferisce all'evoluzione degli analytics. Ci sarà spazio anche per la sperimentazione? Sicuramente sì, ma se ti dicessi escape room, ma a questo punto non ti resta che iscriverti. Quindi ti aspetto a Milano, al Mico, il 4 di giugno. Grazie a tutti.